Mi devo fare un nuovo computer, ma tra i3, i5, i7, non ci capisco niente. Qual è il processore giusto per me? E te lo dico io qual è il processore giusto per te. Partiamo dalle basi. L'i3 è un processore perfetto se tu utilizzi il computer per lavoro, quindi Word, Excel, magari ci vai anche un po' su Netflix, su Internet, ma non fai programmi molto pesanti. L'i5 invece è perfetto se oltre a lavorarci, quindi Word, Excel e PowerPoint, magari ci fai anche qualche ritocchino con Photoshop, oppure qualche progettino, ma piccolino, con AutoCAD. L'i7 è il processore perfetto se oltre a lavorarci utilizzi Photoshop, AutoCAD o comunque programmi molto pesanti intensamente, quindi ne fai un uso professionale. Se questo argomento ti interessa, fammelo sapere nei commenti, così magari approfondiamo. Sta a capire?